Ciao ragazzi, salve a tutti, bentornati nel mio canale, oggi 27 giugno 2022, vediamo cosa c'è di disponibile nei negozi oggetti accompagnati da Sargenti Frittella. Abbiamo l'armadietto Somerset, dopodiché scendendo abbiamo Immortale della Guglia, frammento di Guglia, bundle di Gilded Guy, scusatemi. Dopodiché abbiamo nei giornalieri Aspen e Vagabonda Eterna, e poi scendendo abbiamo Immagazzino un anno più che quello che abbiamo già visto ieri, e poi tutti quanti i bundle di Street Fighter e di Naruto che avevamo già visto precedentemente. Quindi ritorniamo in alto ragazzi e andiamo a vedere nel dettaglio bundle al maglietto Somerset. Clicchiamo e vediamo che abbiamo il costume epico ISO, a me questo bundle sinceramente ragazzi mi aveva mai fatto impazzire, infatti non l'ho preso. Dopodiché abbiamo il dorso decorativo poligono pirotecnico, strumento di raccolta a coltelli a farfalla, deltaplano, razza celeste, forse l'unica cosa bella. E poi abbiamo l'emote non comune grammofono folle, 2400 V-Bug per portarci tutto questo bundle a casa. Poi possiamo prenderlo anche singolarmente, possiamo prendere ISO, coltelli a farfalla, il grammofono folle e la razza celeste. Abbiamo il mortale della Guia, il ritorno 1500 V-Bug, capitolo 2, stagione 6 come prima apparizione, Guia Inconvente, il set di cui fa parte tocco della Guia, il suo backpack 1500 V-Bug, ragazzi ce lo portiamo a casa. Lo strumento di raccolta, frammento di Guia, 1200 V-Bug, ce lo portiamo a casa, fa parte dello stesso set di prima, Guia Inconvente. Abbiamo poi il bundle Gilded Guy, fa parte del set Gilded Guy, prima apparizione, capitolo 2, stagione 7. Con il suo dorso decorativo, mantello frusciante e lo strumento di raccolta, pacca pacchetto stellare, 1800 V-Bug per portarlo a casa. Poi possiamo prendere anche tutto singolarmente. Abbiamo poi Director's Cut, strumento di raccolta, raro, 800 V-Bug, ce lo portiamo a casa, prima apparizione. Stagione 4, scendiamo e abbiamo i giornalieri Aspen, da me già in possesso, carina, bella, simpatica, anche in game. Capitolo 2, stagione 6, prima apparizione, attacco autunnale. Il set di Guia Inconvente, ragazzi, scusate, oggi ho la gola un po' che mi fa male. 800 V-Bug e ce la portiamo a casa. Abbiamo poi il ritorno di Vagabonda Eterna, prima apparizione, capitolo 3, stagione 2, poco prima dell'evento, ragazzi. Con più stili selezionabili, lo stile Vagabonda Eterna e lo stile Spazio Profondo. Carina anche questa, con il suo dorso decorativo, scanner stellare. Abbiamo poi l'emote, spasso, 500 V-Bug e ce la portiamo a casa. Flusso, 500 V-Bug e ce lo portiamo a casa. Deltaplano, aeroplanino di carta, 800 V-Bug ed è nostro. Volta pagina, un'emote molto economica, 200 V-Bug, ce la portiamo a casa, molto carina, simpatica e tranquilla. Scendendo abbiamo poi in magazzino un anno più, che avevamo già visto ieri, quindi date a riguardarvi i miei video, ragazzi. In magazzino un anno più, ancora tutte quante le emote, le attrezzature, le coperture. Abbiamo Street Fighter, Naruto, ancora tutti i bundle di Naruto con Itachi, Orochimaru, Gaara e Hinata. E tutta quanta l'attrezzatura di Naruto con il Rasen Shuriken, Kunai di Minato, la spada Kusanagi, Akatsuki, la copertura che si può vincere anche gratuitamente. Il bundle di Naruto e il bundle di Sasuke. Scendiamo e abbiamo ancora tutte quante le attrezzature, Spider-Man Zero e le offerte speciali della Epic. Ragazzi, io ritorno di nuovo in lobby. Io vi saluto allo shop di domani, mi raccomando, un bel mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Ciao ragazzi, a domani! Grazie a tutti!